ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale e oggi siamo insieme a messi 81 ciao ragazzi bentornati e oggi facciamo un video diverso invece di andare a combattere andiamo a fare online una serie di lanci di rifornimento per vedere chi ha più culo 32 che è più fortunato è più fortunato mettiamo esatto comunque abbiamo sei lanci a test comuni e 7 rari quindi vediamo alla fine del chi ha ottenuto le cose migliori e che è stato più fortunato appunto quindi come facciamo messo la mente io direi di iniziare prima con quelli comune facciamo prima io poi tu e poi raro io e raro tu che ne facciamo facciamo o facciamo 1 e 1 un comune a testo le ore 1 vabbè tu allora inizia tu inizio io con i comuni dai mi dice posiziona non vale da un occhio indietro che sei vai vai lancia vediamo cosa ne manda ok comuna vabbè rottame questo è il mio fucile biglietto da visita solo un blu dai guardiamoci questa alla fine tutte comuni non le segniamo solo un blu ok solo un imbugnatura rara esatto quindi poi sono una carta blu va bene vado io muoca a te adesso perfetto io ho un cazzo vabbè niente ok per adesso vai vai vediamo qua adesso vediamo attenzione fuoco di copertura altro biglietto da visita poi il biglietto da visita raro ok vabbè sei a due blu vado io da visita in bugnatura comune siamo a due blu ma chiuso e chiuso vai tocca a te 2 2 a 0 attenzione a vabbè duplicate vabbè un'impugnatura anche io ok vai tu 2 1 ok a me vediamo cosa trovo un'altra no attenzione leggendario una leggenda motore mortale una leggendaria bravissima non vuoi vincere più sto aspetta spieghi o confido in quelli e riusci in quelli che avanti lanciamo quantesemente sette esposte e vabbè c'è sempre qualcuno che roba niente io sono che trova niente inutili inutili e continua a non trovare niente quindi al momento come lì c'è due blu e un viola ok ok e io ho un blu vai vediamo cosa troviamo no c'è l'epico e quello rossa addirittura che è eroico una bella divisa ottimo infatti va bene vado io tocca a te mi sai che c'è bisogno di acconteriamo che già sappiamo che avviene aspetta 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 attenzione un'impugnatura leggendaria anche io ok vabbè già è qualcosa ok vai tu ripeto io confido in quelli rari ok puoi togliere attenzione un epico anche io attenzione questa storia alla 2 hai preso quella rossa che sicuramente è migliore vai tu tocca a me stare ci arriva qualcuno in testa che si avvicina niente 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 scarse scarse solo un raro tutti a bordo solo raro è un duplicato niente tocca a te adesso allora l'ultimo comune chiesto martinello martinello eh attenzione un altro epico un altro epico va bene dai io sono davanti albera ce lo stai martinello a che vai io ho finito i comuni e pure abbiamo lo siamo con i rari vediamo cosa succede buono dai diciamo due rari sulla cagata dai vabbè considerando che attenzione qua c'è la mia vincita inutile 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 bussare qui non risponderà nessuno va bene niente a però una leggerita che è una leggera con the top io punto io punto all'epico sono ecco lo virus bella questa quale questa è un'altra st g 44 ottima batticci la mani dai guarda gente bravi batteteci la mani sì sì grazie grazie stava arriva in destra no una leggera leggendario scendillo senti lì lo scusa allora io le chiede vai che pacchetto vabbè inutile ok vai tu lascia in destra non ci arriva sempre attaccato inutile 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 tutt'è noi vogliamo un epico attenzione faccio l'epico no leggendaria vabbè un emoto leggendaria ok per me invece le pacchette castam e cerca da ambracarsi vediamo cosa abbiamo trovato qua una leggera leggendaria bella non è una rara cos'è prima combattere un amiettino da visita inutile niente perché attenzione questo è un bel pacchetto vede lo spisto un biglietto da visita leggendario e un emoto va bene anche zaga da fatto l'applauso grazie grazie gli ultimi due pacchetti vediamo cosa proviamo qua attenzione facciamo un epico bella diviso almeno un epico una bella divisa questo è per montano ottimo vediamo io ancora devo trovare però un epico leggendario unico come si chiama eroico 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 ma quale eroico 4 vabbè lasciamo perdere l'ultimo pacchetto cioè l'ultimo pacchetto pure io aspettate la trans posta ok vediamo cosa c'è niente ottimo così niente tutta roba inutile e adesso c'è il surpass allora a questo punto se io lo prendo manco per niente va bene allora possiamo dire che io ho preso un baglio di skin delle armi buone tutto sommato però tu hai preso l'uniforme epica eroica 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 sì sì più o meno quindi va bene allora il vincitore di questo spacchettamento diciamo che sei stato tu vincitore morale sulla carta almeno questo va bene ragazzi allora penso che per questo episodio ci possiamo salutare qui e ci vediamo nel prossimo spero che vi sia piaciuto questo spacchettamento lasciate un like e condividete il video al solito mi raccomando iscrivetevi che perché non l'abbia ancora fatto e se avete non so un'altra modalità su come spacchettare i rifornimenti magari fateci sapere così la prossima volta lo facciamo con un flash va bene dai va bene ragazzi un saluto ciao ciao un saluto un abbraccio ciao ciao